ciao a tutti e tutte sono Giovanni Villani di letture metropolitane sono molto molto contento di salutare un grande ritorno ma prima di presentarlo c'era un avevamo un problema e quando c'era di voi no infatti stavo per dire sicuramente di più di uno però più di uno non potevamo andare a un concerto un concerto che eh volevo assolutamente vedere un concerto che volevo anche condividere con Flavia pur essendo io e lei in maniera diversa vicini ai CCCP e lui vicino e io lontana in quel senso e per questo è diverso e in essenza di ubiquità non avendola abbiamo chiamato la voce che avete sentito esattamente salutiamo lui ma anche il suo ritorno su letture metropolitane benvenuto bentornato Adriano Ercolani ciao ragazzi ciao ragazzi sei andato a vedere i CCCP grazie a voi grazie a voi allora innanzitutto innanzitutto era un ritorno era il primo concerto del Rocchi Roma del 2024 era il primo concerto a Roma dei CCCP fedeli della linea con questa formazione a Roma hanno fatto una serie di concerti a Berlino comunque c'è stato un tantammo in primavera fortissimo finalmente il pubblico romano ma comunque italiano nel centro Italia ha potuto vedere i CCCP a portata di mano tra virgolette ma il risultato è stato un concerto di due ore e mezzo vado a vedere le statistiche la scheletta ha 30 brani di cui otto presi da socialismo e barbarie sei da affinità divergenze fra il compagno Togliatti e noi eccetera eccetera sei da canzoni preghiere danze del secondo millennio insomma probabilmente appunto con l'approccio con cui io stavo entrando a questo concerto e stavo portando lei due ore e mezza forse erano troppe ma io sono ancora più contento ancora più ci sia andato perché il tuo punto di vista è estremamente come viene viene però è estremamente prezioso io partirei da una cosa prima di anno ti faccio una domanda qual è il tuo rapporto con i CCCP eh allora beh i CCCP partiamo da questo allora io inizio dicendo questa cosa siccome la parola chiave dei CCCP soprattutto adesso è contraddizione essendo io gemelli ho ovviamente eh platealmente aderito allo spirito del concerto perché ieri sera io avevo la quando ho fatto le storie avevo il telefonino pieno di messaggi di amici che mi insultavano in maniera colorida perché io avevo proprio detto alla proposta di andare a vedere il concerto di CCCP che cosa mai manco se me lo regalano e invece puntualmente se non sono stati a parlare di questo concetto meraviglioso allora diciamo che i CCCP pur non avendo io mai aderito ideologicamente al cento per cento diciamo a alla loro nostalgia filosovietica eh sono probabilmente l'unico gruppo italiano che ascoltavo nella mia adolescenza sapete io sono sempre stato molto snob e soprattutto da ragazzo e e i CCCP sono sicuramente il più grande gruppo per usare una definizione banale da da rotocalco il più grande gruppo da rock alternativo italiano di tutti i tempi e ieri il concerto l'ha dimostrato nel senso che chiaramente eh il ruolo storico che hanno avuto i CCCP è talmente come si suol dire adesso nel giornalismo musicale seminale e e soprattutto hanno questa questa bellezza creata dai contrasti che poi sono esplosi perché appunto il lotto volante emotivo che è stato il concerto di ieri eh di cui parleremo tra poco è chiaramente il risultato delle contraddizioni che erano già in nuce nei testi dei CCCP eh e nella stede nell'immaginario dei CCCP e poi sono esplose in maniera drammatica nel nello sviluppo del percorso dei protagonisti la frase più famosa dei CCCP è fedeli alla linea la linea non c'è e eh in principio è il verbo in principio è la parola verità parola verità che cosa intendo dire intendo dire che un gruppo punk quindi per definizione anarchico anti autoritario ehm contro tutti gli schemi contro che però ha come icona simbolo e riferimento l'immaginario della dittatura sovietica e del CCCP in DDR no? È stato del grande slogan appunto anche il primo concetto l'hanno rifatta a Berlino no? Da un lato però rivendicando sempre Giovanni Ferretti la sua poi con i CSI di ah no non fare di me un megafono eh mi insepperò non fare di me un idolo mi brucerò quasi anticipando la sua eh futura svolta palesemente contraddittoria per chi non lo sapesse ma non credo che chi ci segue lo sa Giovanni Ferretti icona e leader del più grande gruppo punk italiano ehm che aveva appunto come nome simbolo e le vestigia del comunismo sovietico si è convertito al cattolicesimo razzingheriano dopo aver letto un fondo di Giuliano Ferrara anche lui ex comunista e addirittura è diventato uno che sta con Giorgia Meloni quindi voglio dire però in realtà e quindi chiaramente tantissimi tantissime persone tantissimi amici ieri non sono venuti al concerto mi hanno insultato perché sono andato al concerto io stesso non ci sarei andato se non fosse venuto del vostro invito e quindi anche diciamo eh la possibilità di una riflessione giornalistica ok ehm però se noi andiamo a sentire i i testi dei cccp e li leggiamo non solo c'è sempre stato questo elemento religioso che poi viene dalla cultura contadina emiliana che lui ha sempre di cui lui ha sempre mostrato nei suoi testi questo rovescio appunto paranoico eh lo smarimento diciamo no di questo senso del sacro però la canzone madre ha in sé dei nomi in latino tratti dalle litanie lauretane il famoso sazia e disperata con cui ehm inizia Rosemiglia è la citazione da nome Eliano Cardinale se non sbaglio già adesso scusate non vado a memoria per facilmente reperibile la fonte ehm quando lui appunto dice eh in principio era il verbo in principio era Pravda e quindi Pravda lo dico per i più giovani era la rivista ufficiale del partito comunista russo che vuole dire verità quindi la massima propaganda possibile d'accordo eh è chiaro che lui che nei suoi testi parla di stati di agitazione di 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 eh noia di 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 tutto quello smarrimento no eh depressiva la famosa depressione caspica canzone meravigliosa con cui poi loro aprono il concetto tra parentesi per fare un altro un'altra allusione spirituale non ora non qui eh in questa pingua in manefrana ma non ora non qui è praticamente la traduzione di un mantra neti neti cioè loro poi fecero questo viaggio in Mongolia famosissimo successivamente in cui scoprirono la spiritualità orientale eh quindi questa serie di contraddizioni che poi sul palco vengono eh esposte è già io mi ricordo quando da ragazzino li vedevo che andavano le trasmissioni non so se era prima di avanzi non mi ricordo una trasmissione con di di Sabina Guzzanti con lui capito rasato con la cresta da punk che però cantava i coi degli alpini e faceva le letture dei dei partigiani la la benemerita su Brett eh Annarella eh eh Danilo Fatur che è questa sorta di 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 artista del popolo di di performer eh osceno e dataista adesso sembra un po' super giovane diciamo sul palco e quindi da un lato questo rigore ideologico che però appunto fedeli alla linea la linea non c'è c'è questa nostalgia di un eh di una linea ortodossa appunto affinità di direggenze per il compagno degli altri noi ortodossia anche questo gioco dall'ortodossia ideologica e l'ortodossia della religione ortodossa russa questo legame con la madre russia addirittura lui ha aggiunto in maniera anche un po' eh discutibile eh dei versi attuali in cui parla appunto dei russi nel Donbass però queste cose che adesso a noi possono scandalizzare paradossalmente sono coerenti nella loro folle contraddizione ehm chiaramente allora dal punto di vista musicale se dobbiamo fare una testimonianza musicale il concetto è stato bellissimo perché comunque loro hanno portato in scena alcune le più belle canzoni italiane degli ultimi quarant'anni cioè canzoni come Amandoti o Annarella and Radio Place a di là del fatto che uno sia d'accordo o meno gli piacciono meno Giovanni De Offeretti sono comunque delle canzoni più belle scritte in Italia negli ultimi quarant'anni oggettivamente infatti sono state anche oggetto di cover alcune anche diciamo perascurabili no però sono diventati dei classici a parte gli inni punk eh adesso eh chiaramente anacronistici è anche vero che ne parlavamo con molti amici dopo il concerto il fatto di ascoltare quarant'anni dopo eh queste canzoni consapevoli delle delle svolte soprattutto a Gianni De Offeretti che appaiono così un un tradimento una sconfessione da un punto di vista immediato immediato rende ancora più struggente rende ancora più straziante io vi dico la cosa domani faccio quarantacinque anni quindi non sono né né un ragazzo né un anziano però io a vedere i ragazzi cioè io mi sentivo i cicciccini nella mia cammeretta di quattordicenne e già erano un gruppo passato no? Cioè già erano precedenti sì sì e il fatto di vedere questi ragazzi adolescenti che così pocavano eh facevano il pugno chiuso mi ha dato più tenerezza che speranza capito? Cioè da un lato vi ho visto un grande simpatia però mentre noi nei primi anni novanta che era già un'epoca profondamente già post ideologica perché il muro crolla nel 89 già c'erano i CSI realtà no? Quindi già noi provavamo a recuperare questa identità già smarrita adesso cioè io pochi giorni fa mi è arrivata un'email che ehm c'è una mostra su Eico Berlinguer al museo archeologico di Bologna cioè sembra veramente la 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 l'epitaffio dei tempi Giorgia Meloni al governo e Berlinguer al museo archeologico ora ehm comunque il concetto è stato commovente io io ho provato a avere un distacco cinico mi prendevano in giro perché io battevo le mani tipo così no perché non volevo tradire troppo entusiasmo però effettivamente quando è partita Miami sono sorvenute le emozioni di di trent'anni fa e mi sono commosso devo dire mi sono commosso pur vedendo che eh molti vedono anche per i costi del del concerto un'enorme operazione commerciale che appunto è molto più se vogliamo contraddittoria e e e è un tradimento ancora maggiore dell'eventuale svolta ideologica perché in realtà quello che dico io Giovanni Lindo Ferretti è sempre stato non dico di destra ma è sempre stato in un certo senso diughiniano pre diughiniano cioè è sempre stato rosso bruno ha sempre fatto questa sintesi tra tradizione spirituale ieratica e anche voglio dire morire forse la canzone più complessa dei cccp che in penso in tre minuti scherzi sono tre canzoni differenti lode a lode a Mishima e a Mayagovski cioè due icone Mishima della destra e Mayagovski della sinistra entrambe unite da cosa dal suicidio di fronte al tragico fallimento dei propri ideali delle proprie ideologie Mishima perché vede nella società giapponese il tradimento dei valori della grande direzione samurai e Mayagovski perché era stato il cantore della rivoluzione e a parte poi le sue tragiche delusioni amorose però appunto uniti nella tragedia infatti la canzone si chiama morire e il ritornello eh produce il ritornello il mantra finale nichilista quindi paradossalmente anche questo è coerente paradossalmente anche perché e concludo eh c'è questo gioco nel gioco è pieno di contraddizioni è una scatola cinese di di riflessioni e contraddizioni i Sex Pistols più grande gruppo punk almeno a livello di 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 fama eh sicuramente i Clash sono stati più coerenti e musicalmente più 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 ricchi ma i Sex Pistols sono sinonimo di punk appunto dissero la grande truffa del rock'n'roll no? La grande truffa del punk eh quindi in questo senso cosa c'è di più punk che fa il concerto 40 anni dopo no? però è anche io che tu menti la famosa che è in scaletta da parentesi tu menti dei 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 CCCP che ha eh nel 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 riff di chitarra un evidente fa il verso a submission dei Sex Pistols è palesemente una canzone contro quel tipo di atteggiamento punk no? Dice eh dicono tutti così io sono l'anarchia un alto anticristo che sono i primi versi di Anakin Rierkei ma eri solo carino proprio carino picro di testa e ben vestito quindi appunto in questo gioco di contraddizioni eh Giovanni Lindo Feretti che canta tutto il concerto con le mani in tasca ma con un'intensità straordinaria ehm i te le canzoni dei CCCP sono meravigliose perché hanno questo questi riff di chitarra punk violenti di Massimo Zamboni che tra parentesi sembra che è stato scongelato è stato ibernato e scongelato nel senso che è rimasto identico musicalmente potente sembra il personaggio tornando a le trasmissioni di 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 Serena Dandini di Antonello Fassari no che si sveglia dopo vent'anni è cambiato tutto lui è rimasto identico e è rimasto anche molto coerente dal punto di vista ideologico diciamo io l'ho intervistato anche abbastanza recentemente e però su questa base punk così violenta compatta potente c'è la voce salmodiante anche un po' stonata profondamente rieratica di Giovanni Lindo Feretti con questi testi eh colti con questa sorta di versione punk di battiato con questi slanci religiosi già all'epoca già allora madre una canzone di CCCP che dice Turis Davidica eh eh Gianua Cieli no cioè che cita le litanie la vietana la Madonna quindi in realtà quelle contraddizioni che sono esplose che poi ieri sono state ricomposte hanno creato questo effetto straniante di commozione ma anche di rabbia no? Cioè tu vedevi Annarella che portava la bandiera del partito comunista sul palco ecco Giovanni Lindo Feretti che eh si è fatto la foto con Giorgia Meloni è tutto così drammaticamente post ideologico era già tutto in nuce nel nel primo punk è stato un otto volante di emozioni veramente perché è stato da un lato commovente da un lato tristissimo secondo me e e vedere appunto questi ragazzi giovani da un lato appunto fa tenerezza speriamo che non lo so non so nemmeno se questo possa condurre a un seme di un di una nuova volta che veniva di fatto da Gianni Lindo Feretti perché purtroppo mi sembrava tutto ormai congelato nella musealizzazione di se stessi per questo per questo Bowie e Dylan sono eh sono eh Dylan è tuttora dei geni proprio perché non sono mai uguali a se stessi proprio perché quando tu vai al concerto di Bob Dylan non c'è quello che ti aspetti te lo trovi lì vestito da giocatore di poker col cappellone da Rexano spalle al pubblico che suona la pianola e canta una canzone che non capisci dopo tre minuti capisci che è in quella inaccettabilità estetica c'è però un grande insegnamento di coerenza mercuriale no appunto it and me babe diceva e appunto Feretti diceva sono come tu mi vuoi non sono come tu mi vuoi ieri loro hanno fatto il concerto esattamente eh le canzoni sembravano quasi come su disco però appunto poi per esempio io ero curioso di vedere se in punk islam perché poi l'Indo Feretti negli anni diceva io non canterò più le canzoni cccp poi ha detto vabbè canterò solo curami poi poi ha detto vabbè punk islam però l'unico verso di cui mi pento in realtà è Allah è grande e Gheddafi è il suo profeta perché è comunque blasfemo no nella sua visione religiosa anche se di un'altra religione e infatti l'ha sostituito con Dio è grande e Dio è profeta però comunque stai cantando punk islam stai dicendo invece che pensare continua a salmodiare per carità io capisco la differenza lo sapete meglio che me l'avete intervistato tante volte sul tema della meditazione la conosco la differenza fra spiritualità e religione però comunque stiamo parlando di una persona che si è convertita al cottolicesimo razionario cioè le contraddizioni da un lato vista con distacco è estremamente affascinante interessante chiaramente da chi ha avuto una partecipazione emotiva se non ideologica è inaccettabile no quindi è esteticamente straordinario ideologicamente eh fallimentare e e umanamente appunto è è sia è sia commovente che 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 malinconico ma per come me l'hai descritto in questa ultima frase mi sembra la cosa perfetta per te lo spettacolo perfetto per te probabilmente invece tutta la sei goduta ah io sì ovviamente nel nel mio cinismo no ma in realtà appunto io mi sono anche commosso e non volevo non volevo ho incontrato il nostro comune amico Mauro Zeo che svettava ovviamente per la sua l'unica persona che io guardo così Mauro e che ovviamente lui in un numero credo di orfani no aveva messo un personaggio che citava parlava solo con citazioni dai cccp quindi quale miglior filologo ovviamente era entusiasta va beh ovviamente pensava pensa avrà fatto un posto avrà fatto delle sue considerazioni cioè c'era ieri c'era la la meglio gioventù anche ma vai 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 amici intellettuali ho incontrato davide nia Lorenzo ceccotti però insomma faccio faccio una domanda un po' strana un po' boomerang Flavia come avrebbe reagito a due ore e mezzo di cccp a a capannelle in questa forma in questo colore ma secondo me le sarebbero piaciute molto alcune canzoni ma probabilmente non avrebbe capito non 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 per un discorso intellettuale o cognitivo ma per mancata partecipazione per essa magari l'entusiasmo per delle canzoni provocatoriamente perché i ccp hanno delle canzoni di grande complessità concettuale e altre che sono quasi dei 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 mantra punk ripetuti le filastrocche punk esatto no quindi però ovviamente che magari aveva un significato ironico 40 anni fa erano collegate a a cioè visto dall'esterno è tutto grottescamente contraddittorio no per chi ha seguito il percorso anche arrabbiandosi cioè insomma io con giornalino freddi come molti di noi pari anni non l'abbiamo più ascoltati no certo diciamo adesso un po' solve et coagula no cioè un po' il la 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 sintesi dialettica è anche vero che facendo una considerazione anagrafica molto banale questi hanno una certa ragazzi quindi è anche una sorta di commiato alla propria storia e anche un po' fare i conti con la propria storia è ovvio che le grandi personalità hanno grande carisma e fanno anche possono fare anche grandi sbagli ma non è tanto il fatto io non con anche mori sei per dire no anche c'è johnny rotten simpatizza per trump mori sei sappiamo che posizioni ha preso questo dovrebbe però anche far riflettere su una cosa cioè se i le grandi icone della rivolta punk vedono di buon occhio la destra in veramente inconsistente attuale vuol dire che il punk è di destra perché anti autoritario è violento individualista o vuol dire che come io credo anche la sinistra di adesso a parte proprio non esiste ma ha perso qualsiasi qualsiasi fascino libertario è diventato un partito di buroga di cioè è diventato tutto quello contro cui chi andava i concerti di gcp lottava non che giorgia meloni sia meglio è assolutamente però paradossalmente può funzionare più una narrazione grottesca falsa ridicola ne abbiamo parlato tante volte mi avete intervistato no su come funziona la propaganda populista però paradossalmente funziona più sul popolino la narrazione di giorgia meloni contro l'Europa delle banche smentila poi dal fatto che lei si è allineata immediatamente sia su israele che su zelensky però per dire no appunto giorgia meloni indofretti ti fa ti aggiunge il verso sono come un russo nel donbass e proprio stacco giorgia meloni che però supporta zelensky cioè siamo veramente il cali yuga no l'età della confusione ciò che l'unica cosa che rimane è è l'emozione è la consapevolezza che non rimane nulla intanto e che che è profondamente punk e nichilista questa cosa no il problema è che però tu comunque agiti dei simboli allora la famosa social confusion predicata dai punk no che mettevano la sbastica la faccia il martello sì queste cose le facevano prima che nascevamo noi ragazzi quindi in realtà noi siamo già nati dopo siamo già fatti proprio c'è un verso di qualcuno qualcuno post senza essere stato non vorrei sbagliare adesso senza essere stato una cosa del genere no diciamo che loro hanno attraversato tutte queste contraddizioni con una sensibilità poetica di feretti con questa voce che negli anni è diventata ancora più profondamente eratica ancora più carica di sfumature salmodianti ancora più affascinante è un tema su cui riflettere perché loro si pongono proprio noi per apprezzarli dobbiamo scendere fra estetica e ideologia quando in realtà loro fin dall'inizio identificano estetica e ideologia nel momento in cui però smentiscono subito perché appunto dicono fedeli è la linea la linea non c'è quindi in realtà forse i ccp erano già un'operazione nostalgica e fallimentare 40 anni fa e che probabilmente solo nell'impatto emotivo del punk trovavano un senso liberatorio e adesso a viverlo 40 anni dopo io veramente si stavo prendendo in giacca e cravatta perché avevo staccato del museo e mi sono ritrovato al concetto che faceva molto ridere quindi viveva ancora di più la contraddizione di ballare su su quelle note quindi è sicuramente è stata una introspezione dolente per tutti sicuramente un evento artistico degno di nota perché nel deserto attuale di vita anche fisico che capannelle alza un bel polverone domani c'è sta gabriponte capito c'è anche sta cosa davvero però non era battuta cioè domani è il tuo compleanno quindi aspettati un regalo io spero un invito e no ma per dire tu vedevi la all'inizio rock in roma i concetti iniziava con i ccp dopo poi ci stava gg d'agostino per carità queste sono le contraddizioni di qualsiasi festival però ripeto adesso con giorgia meloni al governo e tu vedi no quelli che urlavano di fiamo rivolta che stanno cioè non tutti insomma il leader carismatico icona no anche dei csi codemondo c'aveva proprio la 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 gli oclo sguardo saltante col neo tipo terzo occhio no giovanni freddi si identifica con i cccp e con i csi e che alla fine sta sostenendo il governo più di destra dalla storia della repubblica italiana farebbe ridere se non fosse vero no sarebbe comico se non fosse drammaticamente tragico vorrei chiudere con un tuo superpotere che si è espresso in un diventato quasi un inside joke di letture metropolitane è nato all'interno di una intervista che tu hai tradotto tiro fuori dal cassetto dei castic power of roman slang puoi utilizzare ricordi questa è una frase che tu hai utilizzato nello spiegare a marjorati al giornalista di sport tentai di spiegare il potere del termine stecche belle stecche belle stecche ma lo sai la coincidenza è che talmente si profetici su sinner fumo e che io feci quell'intervista con una cuffia sola fuori dalla stazione di milano in diretta perché stavo tornando da dal bazar atomico e domenica avevo nuovamente intervistato da loro quindi vedete tutto torna insomma qual è noi ogni volta che noi usiamo il romano ogni volta che noi usiamo il romano in qualsiasi situazione e troviamo che sia particolarmente efficace diciamo sempre a vedi dei castic power of roman slang era rimasta diciamo una frase tipica con cui probabilmente mi farò una maglietta prima o poi ti dico subito due un attimo se non me funziona vai come lo sfrutteresti per definire il concetto che hai visto ieri le due ore e mezza dei cccp l'ho detto ieri a maruzzeo ma fatto piagne mortacci sua perfetto fine assume tutto grazie a Adriana Ercolani grazie a voi libero per geolier con tutto il bene ma guarda forse vado pure io a vedere esatto perché appunto l'obiettivo è liberato che ormai ceccotti gli ha dato una dignità artistica anche anche per noi per noi boomer no viva liberato viva Adriana Ercolani grazie ragazzi ciao grazie 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 a tutti